Salve a tutti, scusate, benvenuti a buttare questa serie su M10, ovviamente con i nostri Nationals, ho fatto un periodo di registrazione, l'ho chiusa per sbaglio Va bene signori, siamo qua, terza partita contro Toronto Ehehe, ehehe, ehehe Eikoff, sarà lui lanciare oggi, è quello che... sarà lui Eeeh, e qua c'ho... e la c'è, purtroppo devo forza sostituirlo E quindi facciamo Alex Cole, però con Alex Cole Finisce alla sinistra, Royce Lewis La destra ce l'ha, ok Abbiamo un po' di gente stanca, c'è Un po' di gente stanca, c'è Allora, Lewis abbiamo che è un po' freddo Potrei mettere Robles al posto di Lewis Averne un altro fresco in più, anche se la velocità purtroppo non è la stessa cosa 75 Robles, Lewis Lewis 85 Ehm, vabbè, però... V Facciamo una cosa, iniziamo così Può eventualmente... Miranda è stanco, è oggettivamente stanco Potrei metterci il tenente a posto di Miranda Seconda, sto sostituendo proprio quelli... Quelli che dovevo Più, vabbè, ci metto che Iperturizer Alla fine cambia poco rispetto al titolare Ehm, però andiamo così Però andiamo così Andarecchi tutti quanti Allora, prima abbiamo persa Seconda, e fortuna abbiamo vinta Vittoria che dà morale Una vittoria che dà decisamente morale rispetto al... Diciamo, soldi Rispetto alle... Rispetto alla partita precedente Ora abbiamo con... Andiamo con... Sto, come si chiama? Burritos No, Berrios Oookay, subito una valida Subito darecchino una valida Va bene Buon inizio Ok 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 Va bene Va bene Era una... Ok Benissimo Ora Ora Myers 1-0 Va bene Io devo abbattare anche il movimento Non vi entra... Vi entra il microfono E poi è un problema Allora Dai Will 1-0 2-0 Benissimo Dai Will Dai Will 3-0 Benissimo E su 2 lascio andare Proprio serenamente Serenamente lascio andare Basta la prima Will Myers va in prima base Bene Ok Va bene Ora Menenses Menenses Alla battuta 0-1 2-8 Ok 1-1 Va bene Va bene Menenses Eeeh Nooo Eeeh L'ho fatta Stompare Vabbè E niente Due eliminati Però c'è Almeno c'è Trovano in terza base Ora Alex Collo Vediamo che si riesce a fare No Era bollo 0-1 Non riuscissimo a fare Eeeh No Vinto E niente Finisce il primo inning Non Non facciamo punti Norca Mitea Peccato che Sembrava una buona occasione Però vabbè Ora Eikoff Monte di lancio 0-1 Poi Mettiamo Slider Eeeh Non ci arriva Non ci arriva Ok Qua Non inizia benissimo Ecco Mettiamola così Non inizia proprio benissimo Però va bene Eikoff 0-1 Va bene Poi Mettiamo una curva Proviamo così Tiri Centrale Non la tiri Centrale Via Va bene Va bene Va malissimo Va Va malerrimo Ora Non ci sono C'è Uomo Abbiamo Già Prima e terza base Occupate Non abbiamo Un eliminato Soltanto Uno E due Loro fanno due punti No Fanno il punto Di già Fanno il punto Noi facciamo Due eliminati Forse era meglio Provare a eliminare Quello che andava A casa base Vabbè Ok Meyers E finisce Primo in Siamo già sotto 1-0 Siamo già sotto 1-0 E non è un bene Ma Ma 0-1 Siamo già sotto 1-0 Considerando Che libe Rifruttà A fare punti Con questi C'è in generale A fare punti Ma poi A fare punti Con questi Già non è un buon inizio 1-2 Questo è strano Come va Eeeh Valida Valida Robles Va bene Va bene Va bene Robles Mi fa una valida Ok Ora Tenente Garcia Vai tenente Forza tenente Eeeh Però E' una valida Però una valida Però una valida Che manda il tenente Va bene tenente Prima seconda base occupata Ok Dai Dai Adesso Keibert Keibert Ulisa la battuta 1-0 Dai Bon Dai Keibert Dai Il lanciatore Sembra più gestibile Però Ok Niente 1-1 Ok 1-1 Dai Keibert No 1-2 Cando 1 Non c'è niente Eeeh E' niente Prima eliminato Forse sto puntando Meglio No Stavo per dire Meglio andare Di Di Smorzata Ma Non vedo Dei grandi Velocisti 1-0 Dai Dai Andalabro 2-0 2-0 Ok Va bene Dai Candelabro No C'è uno Calma 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 Secondo eliminato Secondo eliminato Avrei voluto lasciarlo andare Niente Abrams la battuta Ok Eeeh Non bene Benissimo Si pareggia Si pareggia Si pareggia Si pareggia E si passa pure in montaggio 2-1 Dai 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 2-1 Grande Abrams Bellissima battuta questa Dai 2-1 Ora ti ricomincia Terakilla la battuta Dai Ok Ok C'è uno Va bene 1-1 Scusate Dai 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 2-1 Ok Calmi 3-1 Benissimo Una lasciamo andare Dai Una Lasciamo andare A prescindere Allora sarà Magari Ultracentrale Non prega niente Lasciamo andare Ti fa Si fa Si fa un lancio In più Va bene Questa sarebbe stata Anche difficile Da battere Dai Derek Dai Derek Va bene Quindi finisce il secondo In fase di battuta Facciamo due punti Bene Mo' dobbiamo Mo' dobbiamo tenerli Mo' dobbiamo tenerli Akoff Sta a te Ecco Alex Cole Si muove Tre anni dopo Allora Akoff Non sta Posso dire Akoff Non sta lanciando Bene Il turn run Ok 0-1 Posso tranquillamente Dire che Akoff Non mi sta Lanciando Benissimo Nooo Brigati Niente Akoff Akoff Prima Fai male La slider Però Akoff Curva Due E andiamo Così E allora Dito lo siete Stronzi Guarda Brigati Vado 2-2 Robles E' tua Brigati E ciao Robles Ciao Ciao Robles Vedi che i passettini Come va a finire Quei passettini Te lancia subito Non i passettini Anche se Ci arriva Rotolando la palla Chi se ne frega Qua Fami un 3 Qua Fami un 3 E avanza E avanza il cretino E avanza il cretino E avanza il cretino Ma se la palla Ti arriva uguale Perché è nella tua direzione Cazzo avanzi Boh Non ti serve a niente Prenderla la Ti serve FF in base 0-2 E niente Non Cortesamente Ok Vamo E niente Chiudiamo il secondo inning Sempre sotto 3-2 Perché non Non riusciamo a essere Decenti di difesa Ora Myers Myers è una valida Va bene Variare i Myers Va bene Va bene Va bene Ok Ok Adesso Menenses Con calma Ho detto con calma Io ogni volta Ste palla mi sembra buona Poi Ah 0-1 0-2 Niente Teniamo eliminato Io non riesco a leggere E questa Mi sembra Ecco Quella di poco fa Mi sembrava uguale a questa Uguale Uguale Solo che è arrivata Allora Scende Solo che è arrivata A un certo punto Scende Questo è quello che vedo io Poi non è così Io sto raccontando Quello che vedo io Ma io proprio Ok 2-1 Alex colla La battuta ancora Questa mi sembrava Come quella di prima 2-2 Vabbè Ok Battuta Questa è Corpo Questa è la prima Andrà bene Questa partita Vabbè 0-1 Penso il destino Questa partita Sia chiaro a tutti Questa la Non c'è alcuna speranza Di vingerla Però Vabbè Giochiamocela Vediamo Come va Ma Non percepisco Nessunissima Speranza Di vincere Questa partita Proprio che A difesa Non ci siamo Non ci siamo Completamente In difesa In questo momento E in attacco Non concludiamo Neanche chissà che cosa Siamo fatte Quei due punti Però Sembra che Siamo stati Soltanto Un caso isolato Ora 2-2 Oh smattuta Era prendere il volo Quello Vabbè Terzo inning Non facciamo punti Vediamo quanti Ne subiamo Eikof Ecco E vabbè 4-2 4-2 1-0 Curva Robles È tua Posto Bien eliminato Eine Non ho niente Non ho niente Ora Ora è tutto Il contrario Ora non li stiamo Il problema Adesso in difesa Non li stiamo tenendo Robles Serenamente tua Secondo eliminato Non lo capisco Adesso 0-1 Poi Slider Ok 0-2 Curva Ho mirato tutt'altra parte Ma va bene 2-2 Cora di Slider E niente Derek Il è tua Serenamente tua Derek Serenamente tua Ok Terzo inning Non è vero Che non subiamo punti Che ci ha fatto Fuori campo Questo 4-2 Stiamo sotto 4-2 E adesso Tenente Garcia La battuta 1-0 E vabbè La vedo La vedo dura La vedo Dura 2-1 2-0 Anzi Scusate E vabbè 2-1 Non ne andiamo Proprio ne andiamo 2-1 2-2 E io cerco anche di Di andare Di Logoramento Ma Come vedete Non è facile Non è facile per niente Ora Kiebert 1-0 Dai Kiebert Dai Kiebert 2-0 Va bene Va bene Kiebert Dai Ok Ok Ti fa Addirittura doppia Mi fa Sì Doppia Va bene Doppia di Kiebert Va bene Va bene Kiebert Dai Adesso Candelabro La battuta La Candelabro 1-0 Dai Dai Che la partita è persa Ma abbiamo comunque Dovere di provarci Di giocarcela Noi non la vinceremo mai Sta partita Non siamo nelle condizioni Ma abbiamo dovere di provarci 2-0 2-1 Dai Candelabro 3-1 Ok Io una lascerei andare Proprio a farlo stancare Ok Va benissimo 3-2 Adesso Alla battuta Vai Candelabro Il Candelabro Ok Base regalata Candelabro in prima base Va bene E adesso Abrams Mr. CJ Alla battuta 0-1 E E E Momenti fa Ah 0-2 L'odio Sto lancio L'odio 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 Slard L'odio L'odio Ok 1-2 Va bene Va bene Va bene 2-2 No Sì Vabbè 21-53 Di speed Vabbè Ciao No 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 Non mi sembra il caso Allora Ancora Abrams E' meno male che l'ha toccata Però potrebbe evitare di girarla 2-2 Va bene Ok E' entrata la battuta Niente da pare Secondo eliminato Noi continuiamo a non combinare nulla Dare e kill adesso la battuta E' un po' 1-0 E' un po' 2-0 Dai Derek Dai Derek Vabbè 2-1 Era comunque strike Just late Ok No Mi sembrava Se stessi andando via Mi sembrava se stessi andando via 2-2 Calma Sempre 2-2 Va bene Dai Derek 3-2 Dai 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 Derek Ah niente E niente Finisce a quarto inning Non facciamo punti Non facciamo punti Eeeh Vabbè 0-1 Io voglio sperare Che finalmente Eikoff Cominci a lanciare Come si deve 0-2 No Spero male Spero male Curva Va bene Primo eliminato Dai Eikoff Dai Eikoff Ora Eeeh 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 0-1 Poi Slider Eikoff Eeeh La Lechilla è tua Serenamente tua A posto Secondo eliminato Dai 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 Adesso Eikoff Eikoff Eeeh Abrams E' tua Serenamente tua Abrams Serenamente tua A posto Dai Ok Chiudiamo Chiudiamo Questo quarto inning Sempre 4-2 Riusciamo a non subire punti Però dobbiamo farli Myers Però che sfiga Oh però E niente Però E niente Primo eliminato Sfiga ce la prendo Bene Dritta dritta Proprio Dritta dritta Su un loro ricevitore A un certo punto Che ci vuole fare Niente 1-0 E' una Small 1-1 Non la leggo mai Non riesco a leggerla mai Ogni volta Ok 2-1 Dai Dai Bene Myers E' una valida E' la valida Di Myers E' la valida Di Myers Va bene Va bene Va bene Dai Adesso Alex Cole 0-1 Era comunque Strike Va bene Late Ok 0-1 1-1 Dai Dai 1-1 Era Non riesco a leggere le mani Nelle basse 1-2 2-2 Va bene Sta tirando tutte basse Tra l'altro Tutte 3-2 Ok Dai Robles Ok Dai Ok Robles Nella base Ecco Loro Cambia nel lanciatore Chi è questo Anthony Bass Non mi pare tanto Bass Però Eeeh Questo lancia pure abbastanza forte Va bene Ok 1-0 Dai Dai 2-0 Bene Dai 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 Robles Dai Robles 3-0 Ok Io due le lascio andare Io le prossime due le lascio andare Le lascio andare Tutte e due Anche le tira oltre centrali Frega niente Non me ne frega niente Questa sarebbe stata anche Antipatica da battere 3-1 Non c'è un'altra Va bene E ora noi Dai Ma dai Perché non ci cogli E dai Non è vero Vabbè Niente L'ho eliminato E battuta La penna Niente da fare Niente da fare Continuiamo a non fare punti Ecco Differenza Delle scorse partite Dove Vedevo Che non facevo punti Perché loro Tocano Perché erano Forti loro Un po' il lanciatore Un po' la difesa Ma adesso Questa partita Sto sinceramente C'è So Sinceramente Percependo Della C'è che Chiesto punti Non li sto facendo Ma Semplicemente per sfortuna Perché la palla la prendo Colpisco Faccio Dillo solo che Ma yes Io Basta Va bene Va bene Ma yes Mamma 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 Stavolta eri accanto alla base Neanche lontano Eri dalla base Eri accanto Eri accanto alla base Myers Dovevi soltanto Allunga un piede di là Metti prendi Metti prendi la palla Allunghi un piede A destra Eliminato Io Perché Santissimo Il cielo Perché Io devo Ah O No N Re L I Roberts guarda bene il campo perché non lo vedrai più Roberts guarda bene sto campo perché non lo vedrai più non lo vedrai più non lo vedi più il campo te lo giuro te lo giuro non lo vedi più il campo Roberts non lo vedi più me ne fotte un cazzo che che sei un veterano che sei 47 anni non me ne frega niente non me ne fotte nulla non me ne può fregare di meno che anche candelabro Robles ha finito Robles con noi ha finito basta 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 Robles con noi ha finito Robles con noi ha finito basta così basta così no mi è scesa la catena Alex domani mattina Alex allunga il braccio allunga il braccio allunga il cazzo di mano che è l'intaglio eh perché l'ha riposato giocava meglio l'ha riposato giocava meglio giusto ragazzi veramente non so che dire Abrams allora io Robles Robles ha finito Robles con noi ha finito dopo questa partita non lo voglio più vedere non lo voglio più vedere prende palla è indirizzo quella levetta verso la pallina ci gira attorno e non la prende mai non lo voglio più vedere Robles non lo voglio più vedere Robles non lo voglio più vedere Si fa sta partita Continua tutta la partita Fa la partita Gioca quanto vuoi Ma io non lo voglio vedere Basta Qua farò turn 9 Perché la partita è persa Robles ci ha dato il colpo Robles con L'effetto saponetta Ci ha dato il colpo di grazia Ringraziamo tutti quanti Robles Per l'impossibilità di giocarci questa partita Ringraziamo tutti Robles Perfetto Non lo vedrà mai più Basta C'è quell'errore Di fatto ci è costata la partita Probabilmente ci costa anche la qualificazione Ai playoff Sta sconfitta ci costa la qualificazione Noi perderemo per una Usciremo Saremo fuori Da questi playoff Per una partita e sarà questa Tranquilli E ora Va bene Robles 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 con noi è finito Robles con noi è finito Finito sta partita Mi cerco uno al posto suo E lui Lo spedisco giù Lo mando giù in AAA Non me ne fotte niente Me ne chiamo uno in AAA Non posso Non ci sono dei buoni Filders Free agents Mi chiamo uno dalla AAA Me ne frega niente Tanto Sto Robles Non è chissà quale overall Tanto ha eliminato Candelabro Perché questo lanciatore È diventato un fenomeno Basta Basta così Basta così Basta così Basta così Basta così Allora No 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 Sostituzione Chi abbiamo a disposizione Da fare entrare là Già no mi serve Chavis Ok Chavis 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 al posto Di Myers Ok Poi Chi abbiamo ancora No Nessuno Sono tutti i tonali Perfetto Va bene Va bene Sono senza parole Ho dimenticato anche Di mettere Il giocatore a bullpen Allora Chi metto Hunter Harvey E Erasm Dai Siamo loro due Uno due Io sono Sono allibito Da quello che ho visto Sono veramente Allibito Sono 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 allibito Non Robles Basta Robles Basta Robles Ha finito Robles Con noi Ha finito Robles Con noi Ha finito Quell'uomo Lì Guarda Non mi rappresenti Niente Questa palla Era facile Era facile Non mi rappresenti Niente Non mi rappresenti Niente Non mi rappresenti Non mi rappresenti Cioè ci sei costato Una partita Una partita fondamentale Per i playoff Poi Noi Probabilmente Usciremo Dalla Dalla Dai playoff Usciremo Dalla 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 Playoff Dal turno Non ci qualificheremo Per i playoff Per colpa tua Robles Sappilo Per colpa tua C'hai fatto per la partita Che ci costa i playoff Molto bravi Sappilo 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 Io te lo sto dicendo Direcchile tua Posto Ok Finito il sesto inning Continuiamo a giocare Per quanto possa Avere senso Continuare a giocare Questa partita Che senso Non ce l'ha Nostamente Io sto aspettando Che ti faccia il montaggio E poi E poi E poi Si muovano Fatto a simulazione A fine partita Perché non ha Più senso giocarla Non ha più senso giocarla Non gli faremo Altri 4 punti In training Non gli faremo 4 punti in training Non li faremo mai Quindi eliminato Michael Chavis Alla battuta E lo so Dio no E lo so Ma Non è finita Finchè Non è finita Giocatela Non è finita Non è finita Non ti arrendere Eccetera Eccetera Guardate Io lo so Non gli faremo Questi 4 punti Non gli faremo mai 4 punti Io lo so Infatti Mi daranno 0-2 Non gli faremo Sti 4 punti Non gli faremo mai Io ci provo Ma 0-2 Non gli faremo mai Non gli faremo mai 2-2 Ma bene 2 potevamo farli 4 no 2 Una vaga speranza Di farli C'era 4 punti No Michael Chavis C'era battuta 2-2 Niente Secondo eliminato Menezes C'era battuta E ciao Niente C'è che winning Senza punto Ora Take off Bravo Chavis Bella presa Chavis Bravo Bene Ci sono le riserve Danno soddisfazioni Almeno piccole Maybe catch Derek Hill Dai tua Sposta E' un dominato Va bene Bravo Derek Adesso Siamo in terza Ok National 0-1 Va bene Ora Slider Slider Ok 0-2 No Lo secca di là Paolo Va bene Ok Ancora Va Beh Avrebbe girato La mazza Comunque Ha girato Comunque La mazza Non vorrei dirlo 1-2 Tempre Curva 2-2 Slider Eikoff Sempre 2-2 Proviamo Slider Di là 3-2 Eikoff 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 La cosa assurda Che inizio Lancia malissimo Poi si sveglia E non ne sbaglia Più una Però nel frattempo La partita E' compromessa Per motivo X 0-1 Alex Alex Cole La battuta Alex Cole 1-1 Non provo a giocarla Provo a Stare calmo 2-1 Team Maiza Come lancia questo Eh lancia veloce 3-1 Dire una la lasciamo andare E poi vediamo E invece no Cambia poco Cambia poco Cambia poco Sarebbe accaduto Lo stesso Lancio dopo Un lancio in più o meno Mai siamo L'ottavo inning Non abbiamo neanche Granché modo Di farlo Stancare 1-0 Poi 2-0 E Robles La battuta Guarda Se mi fa un fuoricampo Lo perdono No Inutile anche con la mazza in mano Inutile pure con la mazza in mano Secondo eliminato Neanche se in gravi farti perdonare 0-1 Non devo soltanto Devo chiudere Sto risposto Ok Vado La winning Sentite raga Basta così Basta così Basta così Siamo le taxi Finisce così la partita Quindi continuiamo a fare punti 8-2 8-2 Vabbè Benissimo Benissimo Devo fare una cosa Io devo assolutamente fare una cosa Allora Allora Intanto vediamo come gli altri Come gli altri si avvicinano Gli altri hanno vinto tutti Sicuro Hanno vinto tutti sicuro Sicuro tutti Sicuro tutti hanno vinto Sicuro tutti hanno vinto Sicuro tutti hanno vinto Io non ne sono certo Allora Chicago ha perso Meno male I padri I padri si hanno perso Meno male I mezzi hanno vinto Addio I mezzi hanno vinto I mezzi hanno vinto I mezzi hanno vinto I mezzi hanno vinto Questo porta Alla situazione la situazione seguente Padres noi Padres Nation siamo primi a parimento 83 i Mets ha una sola partita da noi ci sta venendo a prendere i Cups per fortuna per fortuna vengono sconfitti e rimangono a meno 3 i Mets ci stanno venendo a prendere è finita pressoché finita chi sei infortunato si è infortunato il win va bene allora c'ho da fare una cosa roster allora allora dove sei dove sei bobby torna bobby abbiamo bisogno di te bobby abbiamo bisogno di te bobby dove cazzo è Robles dove è Victor Robles dove è Robles dove è Robles ecco 68 perfetto tu tu vai in tripla perfetto non ti voglio più vedere ti voglio più vedere mai nella vita ora abbiamo tripla che abbiamo fammi il tripla tripla roster ok mi serve quindi un 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 filer di qualsiasi tipo tanto ecco sto James Wood per esempio fammi vedere che minchia però c'è 65 velocità sei lento sei lento Wood sei lento sei lento sei lento allora Donovan Casey Donovan 71 non lo fa impazzire Wood com'è è abbattuta ma anche qua non c'è è semplicemente semplicemente dura tanto ma non vabbè ok Corey Dickerson ma fanno schifo va bene sentite ok va bene va bene si si ok va bene va bene facciamo una cosa 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 free agents vediamo i free agents vediamo un po' mi servono i fillers mi serve un intanto central film magari questi allora Mitre 89 di velocità Mitre che può fare anche sinistra e destra battuta non è nulla di che però si può fare Mitre come central field ok poi c'è Bernardo Olivo 84 di velocità Mitre quant'era no 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 Mitre quart'era 89 continuo ad essere preferite mie no left field o Kevin Emerson no come sei 71 non mi fa impazzire Bobby Rodi un altro Bobby no non c'è non no 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 Giur... Giurixson Profar fa un feeder con 40 velocità ma perché allora e niente Mitre 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 me prendo Mitre 80 per ha già interessato ah già così è interessato va bene oh vai come il mio roster è full come il mio roster è full cazzo sta dicendo cazzo sta dicendo allora Nei 40 uomini Devo per forza Allora facciamo una cosa Dov'è cazzo sei? Coso? Vabbè andiamo alla hand Vediamo questa cosa Allora classe A Carson Till Vabbè Ciao eh Ciao Carson Adesso posso prenderlo? Posso prenderlo? Posso? Posso prenderlo questo giocatore? Scusate un attimo Free Agents Dove cazzo sei? Ok Mitre Posso prendere Mitre E accettato Mitre 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 Dammelo dimmi che Mitre Ce l'abbiamo già a disposizione Mitre Mitre dimmi che ce l'ha Ce l'ho già Mitre E Mitre qua Mitre qua Mitre 1 Mitre 2 Mitre e De 3 Ha giudicato 2 MLB Ok Vero avete ragione Avete ragione Robles Via dei 40 Ciao Ciao Robles Ciao Robles Ciao Robles Benvenuto a Mitre Ad 240 Perfetto E adesso tu Sali in MLB Oh Caro Mitre Caro Mitre Caro Mitre Caro Mitre Oh Ok Ci sanno soddisfazioni Almeno una Una soddisfazione Me la sono Una soddisfazione Me la sono levata Ok signori Detto questo Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima